Guardate, che racconta del Pokémon millenario Ma tu! Non ricordo se... Occello dove andare all'estero, ma se facciamo un grafico disaccevole Qui vuol dire battutola Intuito E non toppare un po' in gamba Beh, adesso come vai spiegherò un'altra cosa E tu che... C'è avuto un certo professor rubato, vorrei diriti a me Vorrei agglutare e mannearlo E' già certo un sì, non c'è il senso Più non lo piega pieta, vorrà pieta che aveva E' molto cammino Mostra, così... E' tutte le queste scorie combineremo Te accontere sto Beh, buona ragione Se ho portato il tuo ruolo in questa storia è quello di impedircelo Quindi... E' io... Capo del team idro Le palpette sei la tua squadra Fatti sotto! E' più epica quella delle reclute, secondo me Lo sapevo di mandare in campo per primo Maitiena Guardino! Morirà Ivan! Belum! Maitiena, Crobat... No, Golbat Golbat e... Il solo forte è sciarpito Fuori Ma next strike! Sai quanto ti odio il co... To... To... CODI! MAURI! Maldidotto! Mardidetto pipistrollo do... Mu... Devi morire! Devi morire! ma tu pensi per fare un armale come te muori il gold bot ma no sarà una battaglia veramente dura te tu muori ma che cosa no non tradirmi per adesso oman ektrack muori adesso l'ultimo pokemon sapido sapi le blind è stata una battaglia dura non ce l'abbiamo fatta però non ce l'ha fatto male mi girava proprio in gamba la cosa si fa il tempo la forza della mega evoluzione troppo tardi guarda capiremo più tardi cosa sta parlando mi dispiace adesso mi devo attendere ci servirà molto più tardi dove ho battuto la liga ah si è vero ricorderò di te max è bello rivederti eh ma tu sei quello dell'altra volta ma non è da tutti dottor ma che hai preso ma che hai preso ma che hai preso da una gemme mi ha battuto tutta la linea ma io non la sopporto più ok apri e lasciarci voglio andare a curare i pokemon è un piccolo segretuccio qua te lo metti e brucia tutto ho dimenticato che non è a volo ortuna ortuna ah ci clamipoli non è lontana basta oh questa tizia vedrà l'ottino grazie 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 squadra in forma grazie che velocità sui lavottino non mi stai con quello che mi ha commentato iscriviti e mettete un abbraccio qui dai so tutto a domani ciao